L'importante è esagerare. Le molte rivoluzioni tecniche di Pellegrini, le cessioni non sempre azzeccate, i miliardi buttati al vento, le critiche come i bollettini di guerra. L'esagerazione fa parte della liturgia calcistica. Ormai tutto èissimo, bellissimo o bruttissimo. La virtù non abita più in mezzo. L'iperbole è il nostro pane quotidiano. Gli 80 anni dell'Inter sono caduti in un momento di grande tensione. Poi è arrivata la Roma, col sorriso della Gioconda in bocca, ed i nerazzurri hanno rischiato di massacrarla. Dato che esagerare è obbligatorio, gli interisti hanno prima stracciato i giallorossi e poi si sono dati da fare per regalar loro un paio di gol. L'idolm ha trovato la pietra filosofale. Con Policano ha fatto diversi pieni e ha insistito su questa formula che gli consente di presidiare bene la fascia sinistra. E invece è proprio da quella parte che l'Inter fa spesso breccia. Bergomi sarà la spina nel fianco di una difesa giallorossa un po' ballerina. Altro uomo determinante è Ciocci che si procura così il rigore del primo gol. Tancredi è quasi sulla palla di Altobelli ma il tiro dal dischietto si insacca ed è un colpo di piccone per il morale della Roma mentre per l'Inter è un incredibile tonico. La Roma si appisola letteralmente in occasione delle altre due reti nerazzurre che mettono in risalto le pecche difensive della squadra di Lidolm è la grande determinazione di quella di Trapattoni. Il tiro di Bergomi è una bomba. Anche se Scifo non è al massimo bisogna dire che il centrocampo dell'Inter e la velocità della manovra hanno travolto finora la soporifera Roma. Il gol di Bergomi merita una foto. Ciocci è rapido come un furetto a infilarsi fra un nugolo di difensori giallorossi abituati al sole romano ma non a quello milanese che procura terribili insolazioni. Poi Nobile che ha sentito un fischio prende il pallone con le mani in aria provocando un incredibile rigore. Persino Nino Oppio in oltre 50 anni di pedate non ricorda nulla di simile. Agnolin mima che volete da me e Giannini sigla il gol giallorosso. È un gol che cambia gli umori sul campo. Nobile si fa male. Uscirà. La Roma adesso prende colore e arriva ad un impensabile 3 a 2 su una punizione di desideri deviata da Bergomi. Per l'Inter l'importante è esagerare. Mazzenga trova la pietra filosofale giallorossa, la consegna all'arbitro. Agnolin la butta via e per la Roma è finita. Nella ripresa dopo questo tentativo di Giannini su punizione ed un paio di interventi gladiatori di Signorini su Ciocci e Fanna, che sacrifica un dente alla patria, cerca di recuperarlo ed esce, l'Inter riprende in mano la situazione in maniera decisa. L'enfant prodige Ciocci conclude la sua memorabile giornata col secondo gol dopo il tentativo di Mandorvini andato a vuoto. Bergomi festeggia con danze tribali della bassa Padana. È 4 a 2. Agnolin fa sapere a Föller che a lui certe cose non le fanno in Germania, figuriamoci in Italia. Per il curioso ad oltranza, dalla fine Lidl ha dichiarato che per la Roma è stata una brutta giornata e che l'Inter ha meritato di vincere.